Maria De Filippi ha gelato in diretta quattro concorrenti durante la puntata di Amici di sabato. Si tratta di tre ballerini, Filippo, Vittorio e Nicolà, e del cantante Biondo. Quello che è avvenuto nei giorni precedenti non solo è contro il regolamento ma è anche tanto il rispettoso di tutti gli insegnamenti e i valori con cui i ragazzi sono chiamati a formarsi nella scuola di Amici. Insegnanti, professionisti, coreografi, produttori ali, autori e artisti che compongono la squadra di lavoro, e che solo a cento Amici tra i talent, offre a chi partecipa, sono infatti un valore a cui non si può rispondere con totale non curanza del rispetto delle regole chieste in cambio, afferma Impassibile De Filippi. A causa del loro comportamento, i quattro ragazzi sono stati espulsi dalla competizione e sono stati invitati a togliersi la maglia del programma. La conduttrice non ha però voluto dare i dettagli di quanto accaduto, ritenendo che il pubblico non abbia bisogno di sapere i particolari. Ora i ragazzi dovranno affrontare un esame di riammissione per poter continuare la competizione.